Ciao a tutti ragazzi, io sono Nickelplay, bentornati sul mio canale. Sempre oggi registriamo questo video dedicato a un'altra figure di Dragon Ball, ovvero la figure di Mirai Trunks, Super Saiyan 2. Vi do anche un piccolo accendo, secondo me, rabbia. Nel senso che voi sapete che Trunks ha una trasformazione un po' particolare nell'anime, in cui fanno vedere che c'ha sia l'aura gialla che l'aura blu. E quella trasformazione, o più minorità, come è stata detta nel videogioco di Dokkan Battle, un videogioco per cellulare, è stata nominata rabbia. Quindi secondo me questo ragazzi non è il Super Saiyan 2, ma è il Super Saiyan 2 rabbia, perché ha anche i capelli finissimi. Quindi ragazzi, questo è lo scatolo, identico ovviamente a quello che avete visto nel video precedente di Goku Black, perché fa parte ovviamente della stessa serie, Banpresso di XF del Super Warrior Vol. 2. Come al solito sopra è sempre uguale, è sotto il simbolo, il bollino dell'originalità della figure. Taglierino per aprire il nostro fantastico scatolo. Quindi ragazzi, questa figure, per chi ha comprato Goku Black, la dovete mettere a fianco a Goku Black, perché fa la sua porca, insieme fanno la loro porca figura. Ed è davvero fantastica. Ragazzi, mi raccomando, comprate solo prodotti originali, nel mio negozio trovate sempre solo prodotti originali. E a proposito, questa figure è in vendita, appunto, nel mio negozio, nel Nickel Play Store, a Taranto, in via Puglie 76. Ragazzi, quindi io vi aspetto. Anche questa divisa in tre parti, tra base, corpo del personaggio e testa. La andiamo a aprire dalla parte di sopra, perfetto. Usciamo alla base, come al solito, ovale e spessa. Il corpo, questo si dovrebbe mantenere da solo, che si mantiene anche da solo. E poi la testa. Anche questa l'hanno fatta leggermente scura nella parte dei capelli. Quindi la andiamo a inserire nel nostro corpo, davvero fantastica. E poi la inseriamo, ovviamente, nella base di supporto. Eccola qui. Ragazzi, ed eccola qua, Trunks, Super Saiyan 2, versione di Super, quindi Mirai Trunks. Super Saiyan 2, rabbia, o rabbioso, o fu, e dipende da come lo avete chiamato, rabbia, rabbioso, o fu. Ha tre possibili nomi che, diciamo, non sono stati proprio ufficializzati, ma, appunto, secondo il videogioco di Dokkan Battle per cellulare, gli hanno dato questo nominio, diciamo, particolare. Vedete quanto è figo, vedete, messo in questa pose e da questa, di traverso, diventa ancora più particolare. Anche i piedi sono fatti veramente bene, le scarpe. Da notare la parte a strappo è davvero fantastica. Anche gli strappi sul pantalone sono davvero fighissimi. Mentre sta per impugnare, appunto, la sua a spada. Donateli da chi? Ragazzi, fatemi sapere nei commenti, vediamo se siete esperti di Dragomo. Chi ha donato la spada a Trunks? Fatemi sapere nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, e se volete condividetelo dove volete. Ragazzi, questo è bello. Ovviamente io adesso... Ah, noto anche un'altra cosa. Non l'avevo montato nella figura di Mirai Trunks, non Super Saiyan, ma, vedete, qui nello strappo del braccio sinistro, in pratica sotto ha la maglia, quella maglia verde scuro che si vede appunto nell'anima. Sinceramente non me ne ero accorto nella prima figura. Davvero fantastica. Anche la faccia, con tutti i graffi che ha in faccia, sono davvero belli, ma penso che nel video non riuscite a vederli. Quindi ragazzi, questo Trunks così, messo nel video precedente che ho pubblicato, di Black Goku, fanno due figure fantastiche. Ragazzi, per il momento direi che per questo video è tutto. Andatevi a vedere anche i video precedenti che ho pubblicato, di Dragon Ball o comunque di qualsiasi prodotto che appunto troverete in venta nel mio negozio. Ragazzi, per il momento da qui, da Trunks e Black Goku, guardatevi i video precedenti, mi raccomando, io ci tengo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, vi aspetto in negozio. Ciao.